Molti di voi avranno sicuramente già provato ad acquistare calamite come ricordo di una vacanza. Un oggetto pratico, tascabile, facile da regalare agli amici, da portare in valigia e anche da tenere per sé. Però l'abitudine di mettere le calamite sul frigorifero è completamente sbagliata. Vediamo perché. Le calamite vengono attaccate agli elettrodomestici perché necessitano il contatto con una parete di acciaio, ma non tutti sanno che i magneti alla lunga possono rovinare gli elettrodomestici, soprattutto quelli di nuova generazione. I nuovi frigoriferi, soprattutto quelli con touchscreen e molto tecnologici, sono i più predisposti al malfunzionamento in presenza di calamite. Questo è riconducibile ad un motivo. I campi magnetostatici creati dai magneti porterebbero disturbo al buon funzionamento del frigorifero. Dunque perché rischiare? Posizionate le vostre calamite sulla porta d'ingresso, sulla cappa della cucina o su lavagnette magnetiche, così non rovinerete i vostri elettrodomestici appena comprati. Alla prossima!